Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Sassuolo Allora raga veniamo dalla puntata veramente incredibile con tre acquisti pesantissimi e anche concessioni pesantissime Praticamente adesso andiamo a controllare subito visto che possiamo farlo, ci basta andare qui e andare sul nostro club Praticamente abbiamo acquistato Saliba e Damsgaard dopo le cessioni di De Frelle e Kubula nelle prime puntate Poi abbiamo venduto Junior Traoré al Napoli per 55 milioni ed è arrivato subito Brahim Diaz dal Milano Molto interessante che la maggior parte degli acquisti sono tutti fra squadre italiane Comunque Brahim Diaz acquisto pesantissimo 68 milioni spesi ma visto il nostro livello attuale è anche una cifra che possiamo tranquillamente spendere e ce la possiamo permettere Quindi raga sicuramente ho grandissima fiducia nel nuovo acquisto soprattutto appunto Prem Diaz deve darmi tanto E' chiaro che anche Damsgaard e Saliba saranno pedine fondamentali ma sicuramente tutti gli occhi sono su Brahim Poi raga quest'oggi che cosa faremo? Semplicemente andremo avanti nell'attesa che arrivi qualche offerta e che possiamo continuare a fare calciomercato Altrimenti scenderemo subito in campo contro il Piemonte Calci in Supercoppa Italiana Ma come al solito raga prima di andare avanti vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio o consiglio o verplessità E anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione E chiaramente adesso vi ricordo che l'unico giocatore che resta sul mercato è Andrea Consigli che va sicuramente rimpiazzato con un portiere più giovane E ok, arriva la prima offerta dell'episodio Attenzione Atletico Madrid su Mateo Serrique Acquisto che a tratti sarebbe veramente realistico Ci sta che l'Atletico investi sul giocatore come il nostro Mateo Serrique Che sicuramente è il nostro capitano Ma non posso rifiutare a prescindere Andrò a chiedere tanto, mi stanno offrendo 46 Purtroppo là sta scritto che posso arrivare massimo a 57 Ma almeno 60 ne vado a chiedere Anche se sinceramente 60 sono pure pochi Facciamo pure 70 Secondo me c'è il rischio veramente che accettino No, in realtà rifiutano subito, perfetto E occhio raga che Damsgaard diventa ufficialmente un'ala destra Non cresce di nessun punto per all Ma gli manca poco All'invertita Adesso è importante che guadagni 5 stelle di Piedetebola E in più dovrebbe essere arrivata un'offerta Perché si è aperta la schermata Quindi vediamo Sì, offerta da parte del Friburgo per Etnori Chiaramente Etnori non è in vendita Però se mi date tipo 34 milioni Ovvero il doppio rispetto a quanto vale Ci potrei anche stare Vediamo 34 milioni Che penso per una squadra come il Friburgo Siano parecchi Infatti però non rifiutano a prescindere Anzi, non è un'offerta malvagia Proviamo 33 29.6 Occhio raga che questi quasi quasi accettano A sto punto nel dubbio rimango fermo su 33 Perché così fisso il prezzo Rifiutano Però ci sono andati veramente vicino Ok raga adesso Prima di continuare Devo fare una piccola cosa Innanzitutto togliere il volume della televisione E poi questi due giovani Pietro De Santis e Thibaut Guillemen Non so come si pronuncia Comunque Sono mai Un paio di mesi che sono fermi Fra 91 e 94 Non scendono Non aumentano Quindi sono tranquillamente Da portare in prima squadra De Santis sarà La terza scelta Per quanto riguarda Saliba E Perez E invece Guillemen Qua sarà la terza scelta Di Brian Diaz E di Nebim Non sono dei 70 Però sicuramente Sono cresciuti parecchio Infatti sono anche felici Di essere saliti in prima squadra Nuova offerta Attenzione Che arriva Il Liverpool A chiederci Badia Schil Per il momento Tutte le squadre Hanno rifiutato I 60 milioni Che voglio Da lui Ma Il Liverpool Potrebbe tranquillamente Accettare Essendo una squadra Particolarmente ricca Vediamo Non rifiutano a prescindere Come fanno tutti Però Loro Alzano a 37 milioni Neanche più di tanto Io rimango Fermo Sui 60 milioni 44.4 Ragazzi È troppo poco Badia Schil È un difensore Fortissimo E Mi auguro Con tutto il cuore Che non si blocchi La crescita all'improvviso Ovviamente Il Liverpool Rifiuta E ok raga Alla fine Come immaginavo Siamo arrivati Al giorno della partita Contra il Piemonte Calcio Di Supercoppa Mi aspettavo Sinceramente Che arrivassero Più offerte Però alla fine Solamente tre Essenzialmente Quindi ci possiamo Andare ad affrontare Tranquillamente Il Piemonte Calcio E provare A vendicare La sconfitta In Coppa Italia Subita L'anno scorso Nuova formazione Titolare Quindi Mesilier Gudmund Samba De Schil Perez Capa Pessina Mateo Sirilica E Brahim Diaz Della Dega Madue Che cerchi Praticamente Si è giunto Semplicemente Brahim Diaz Occhio a Piemonte Calcio Che schiera Teglias Difensore centrale Meguali Trezzino Sinistro Poi Mandragore Esterno Destro Zigankov Che è un atto Terzino Sinistro Schierato Come centrocampista Poi Uncetto Virioni Come punta Centrale Ma Ditemi Chi è quello Sarà un giocatore Inventato Dal gioco Di Bala Cioci E Luiz Diaz Sulla sinistra Sicuramente Sono una squadra Fortissima Ed eccoci qua Raga in diretta Dal Mapei Stadium Dovremmo essere In casa Sì Mapei Stadium Infatti La vincitrice Del campionato Gioca in casa Anche se Ci sono Tantissimi tifosi Del Piemonte Calcio Dovremmo essere Tipo 50 e 50 Comunque Oggi si gioca La Supercoppa Comunque Per la Supercoppa Italiana Eccola qui Devo dire che è veramente Bello È un trofeo Che è sicuramente Molto bello Da vedere In Italia Devo dire che con i trofei Proprio con le coppe in sé Siamo messi bene Perché lo scudetto È molto bello Almeno Secondo me Anche la Coppa Italia E soprattutto La Supercoppa Sono sicuramente Delle Delle belle coppe Comunque raga Chiaramente Qui Si sta cantando L'inno In questo momento Almeno credo Comunque Le squadre iniziano A stringersi le mani Le formazioni Le formazioni Le abbiamo già viste Diciamo Ora potete Intravedere Anche la panchina Che è una panchina Estremamente classica Damsgaard Subito in panchina Invece L'altro nuovo acquisto Saliva È in tribuna Ma sicuramente Nel corso della stagione Sarà utilissimo Occhio La panchina Del premonte calcio Con Perin Wendall Pedri Che non gioca Coluseschi Benzebaini Locatelli E Cagliociorge Occhio Che hanno una seconda squadra Forse ancora più forte Della prima Qui viene schierato Un 4-2-3-1 Abbastanza strano I giocatori Non sono messi bene Vabbè Come al solito FIFA Non si smettisce mai Comunque raga Possiamo Scendere in campo Possiamo andare avanti Possiamo saltare Inizia la Supercoppa Italiana E Occhio Subito A Luis Diaz Che prova A rendersi pericoloso Qui Vrioni Prova la conclusione Palla alta Male Il primo brivido È della Juve Raga Occhio Al Piemonte Calcio Qui sempre Vrioni Che spreca di nuovo Una clamorosa chance Raga Occhio Al Piemonte Calcio Che prova A rendersi ancora pericoloso Sempre Con lo stesso giocatore Ormai è una sfida Contro Meslier Ma Fortunatamente Era fuorigioco Perfetto Sto parlando a Bambera Occhio Qui bella palla dentro Per Di Bala Occhio dentro E stavolta Vrioni Non sbaglia Al quarto tentativo Anche se è del alto Il terzo Visto che prima Era fuorigioco Comunque Piemonte Calcio Che passa in vantaggio Militatamente Stanno giocando meglio di noi E niente raga Termina anche il primo tempo 0 a 1 Ci stanno veramente Schiacciando Non riusciamo A fare mezza azione Sono veramente bravi Anche in difesa Soprattutto in difesa E in attacco Ripartono alla grande Stiamo trovando esattamente Le stesse difficoltà Trovate Nella finale di Coppa Italia E effettivamente Mi sembra Una partita molto simile Raga Occhio No C'è spazio Per Mandragora Che riesce a raddoppiare Mamma mia Dove l'ha messa Niente Comunque raga Non riesco a batterli Sono ingiocabili Ve lo giuro Veramente Mi hanno incartato Alla perfezione Non riesco a far nulla Ancora Non ho fatto un tiro E loro che chiaramente Sono molto forti Riescono ad attaccare Alla grande E meriterebbero Anche di stare 3-4-0 A sto punto Faccio che cerchi Può provarci Palla per Brahim Diaz Che si gira e calcia A meno Arriva Il primo tiro in porta Della partita Ci pensa Brahim Diaz Però è arrivato ragazzi All'ottantatresimo Raga Provo anche a mettere Un 4-2-4 Mega offensivo Volevo metterlo prima Però purtroppo Della sessantesimo La palla Non è più uscita Comunque dentro Anchietia per cerchi Praticamente per avere Una doppia punta Poi dentro anche Damsgaard Che effettivamente Lui è ad entrare Al posto Di cerchi E escono Pessine E Matteo Serrique Per far entrare Qui palla alta La parte di Perez Per far entrare Dine Bimbe Come secondo il C.O.C. Anchietia per la doppia punta L'ho già detto È ad entrare anche Damsgaard Ravoccio Il rilancio lungo Di Meslier Perfetto Per Dine Bimbe Qui riesce lo schema Però purtroppo Segniamo Troppo ma troppo tardi È peccato raga Perché secondo me Il Piemonte Calcio Sì Ha a livello di 11 La squadra più forte Rispetto a noi Però sicuramente La distanza Si sta accorciando Sempre di più Quindi Se loro sono Da 5 stelle Noi siamo Da 4 stelle e mezzo Secondo me Quindi io penso Prima o poi Dovremmo vincere Vediamo un po' Che cosa ci offrirà Questa stagione E attenzione Nuova offerta Il Bologna Arriva ad offrire 49 milioni Per Dine Bimbe Mamma mia Non me lo aspettavo Comunque È interessante Che non siamo Solo noi L'unica squadra Ad aver fatto Un grande passo avanti Evidentemente Anche il Bologna Ma anche la Ciorentina Squadre così Sono riuscite A crescere parecchio Comunque Sicuramente Vado a trattare Sono curioso Di vedere A quanto Riuscirà A spingersi Il Bologna Dine Bimbe Lo valuto Veramente tanto Quindi minimo 75 milioni Te li vado a chiedere Però Vediamo 63.8 Occhio Che il Bologna Risulta essere Regine del mercato Qui Li propongo I 75 Sono fermi A 66 Raga Io rischio Addirittura 70 Perché 70 milioni Per un 81 Come Dine Bimbe Sarebbero Comunque Tantissimi Però Rifiutano E sinceramente Dico quasi Peccato Perché 70 milioni Sicuramente Erano tanti E Si poteva Rimpiazzare In tanti modi Dine Bimbe Sicuramente Pensandoci così Su due piedi Non guardando Tutta La lista Yattaren Era sicuramente Un profilo interessante Soprattutto Un altro giocatore Che voglio Provare Da tempo E attenzione Nuova offerta Il Valencia Piomba Su Perez Il nostro Difensore centrale Che abbiamo acquistato Solamente l'anno scorso Nel 81 Prova a trattare Ma voglio Minimo 60 milioni Diciamo che Il prezzo Dei mie Dei mie Due centrali Di difesa È già Fissato Ed è già Precisissimo Per entrambi 60 milioni Vediamo un po' Il Valencia Che ci risponde 42.4 5% Di clausola Per la rivendita Non va bene Io voglio Io voglio sempre Questi benedetti 60 milioni 47.5 Riproviamoci Ma penso che a questo punto Ricciuteranno Prova addirittura 58 milioni Per andargli Leggermente Incontro Ma ricciutano comunque E arriva una nuova offerta Ancora per Gudmundson Tocca al Borussia Dortmund 43 milioni Sempre un 82 Offerta sicuramente Molto positiva Ma vado a chiedere 65 milioni Come ho fatto con l'Arsenal Nella scorsa puntata Gudmundson è un terzino Veramente eccezionale 65 milioni Secondo me Sono pure pochi Quindi Non vado assolutamente A cambiare il prezzo 65 Sono firmi A 43 milioni Quindi raga Vuol dire Essenzialmente Che non lo vogliono E infatti Ricciutano E intanto Ragazzi Zitti Zitti Siamo arrivati Anche al giorno Dell'esordio In campionato Contro i Milan Quindi Esordio direi Bello pesante Che però ovviamente Proveremo ad affrontare A massimo Addirittura con un Madueche 87 Che adesso È decisamente Il nostro Fiore all'occhiello E Mi aspettavo Vi dico la verità Tantissime offerte Per lui In questa sessione Di calciapercato Ma per il momento Non è arrivata Manco una Perché attualmente Quanto vale Fatemi vedere Finanze 129 milioni Addirittura Il prezzo In calo Spiegatemi Sta cosa Com'è possibile Se appena Salito di uno Comunque 129 milioni Sono tantissimi E consideriamo Che a 21 anni E già un 87 Comunque raga Io per oggi Appunto Mi fermo qua Abbiamo visto Soprattutto la supercoppa Oggi come evento principale Sono arrivate Delle offerte Ma nulla di serio Nulla di concreto Quindi La copertina In tutti i sensi Se la prenderà La partita Contro il Piemonte Calcio Comunque raga Nella prossima puntata Sicuramente affronteremo Il Milan Penso che affronteremo Anche La Roma E ci fermeremo All'ultimo giorno Di mercato Ma penso Senza farlo Non lo so Deciderò sul momento Quindi raga Io per oggi Mi fermo qua Vi invito a lasciare Un like Un commento Ma soprattutto A riscrivervi al canale E seguirmi sulla pagina Instagram Noi ci vediamo Ad un prossimo episodio E ciao a tutti Ciao a tutti